Grazie dell'invito, scusate dell'italiano. Questo pomeriggio forse la parola gioca assumerà un significato un po' diverso che stamattina e si sposta sicuramente più su gioco o giochi che si può fare col corpo, e perlomeno nel mio intervento. Vi parlerò di una pratica di movimento che è stata descritta per la prima volta in modo dettagliato da Cangelo Tuccaro nel suo libro Trois dialogues sull'exercice de sauté et voltige en l'air, pubblicato a Parigi nel 1599. Questi dialoghi si svolgono, secondo l'informazione dell'autore, nel 1570 in un castello nella Turenna durante i festeggiamenti che seguono le nozze di Carlo IX e di Elisabetta. Tra i protagonisti ci sono sia personaggi colti di corte, sia acrobati, eppure l'autore stesso. Tra discussioni su vari temi, come la medicina o la tradizione della danza, connessi con la pratica nella quale Tuccaro stesso è introdotto come il principale maestro, i protagonisti spiegano ed esibiscono diversi salti che, per intenderci di cosa stiamo parlando, assomigliano, a volte sono pure identici, con ciò che oggi si fa nello sport chiamato ginnastica artistica, sulla pedana del corpo libero. Da quel poco che si sa, Tuccaro nacque attorno al 1530 all'Aquila, diventa un, diciamo, acrobata di strada che espone i suoi salti, assieme ad altri, nelle piazze delle città italiane e poi, non si sa bene come, in un momento arriva a lavorare nella corte di Massimiliano II a Vienna, da dove si trasferisce a Parigi, proprio con Elisabetta, figlia di Massimiliano II, per il suo matrimonio con Carlo IX. Il testo ci offre due particolarità, secondo me, intrecciate tra di loro. A, tra i molti trattati che troviamo nel Cinquecento su pratiche di movimento, è uno dei pochissimi, che è scritto nella forma di un dialogo. e B, la pratica descritta non fa parte delle molteplici attività del corpo, che fanno parte della vita nelle corti, come la danza, la caccia o la scherma. Cioè, è una pratica per definizione non di carattere nobile. Io adesso cercherò di riassumere brevemente ciò che, secondo me, rappresenta il testo di Tuccaro. Farò qualche osservazione sul significato del dialogo e vi racconterò qualche dettaglio per inquadrare Tuccaro alla corte francese, per poi arrivare alla domanda gioco o arte. Ah, una frase sulla terminologia. Secondo me, qua, non parliamo di sport. Giusto perché i criteri che, dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, definiscono una pratica sportiva, per esempio l'aspetto di competitività, un regolamento scritto, non sono realizzati in quest'epoca. Per questo io ho scelto il termine di pratica, di movimento, forse prassi di movimento è anche meglio, su questo si potrebbe discutere, non lo so. In tedesco c'è, anche in tedesco c'è questa differenza tra pratica e prassi, lunga discussione tra i teorici della sociologia che si occupano di pratica di movimento, se è piuttosto prassi o pratica. Per il momento rimango con pratica, per quanto sia scomodo. perché questo termine implica che stiamo parlando di qualcosa di statico, un testo che cerca di descrivere qualcosa di dinamico, il che a livello metodico comporta un sacco di problemi dei quali oggi non parlerò per niente. e B perché comunque il termine di pratica di movimento nell'ambito tedesco ricorda i tentativi di sviluppare una teoria della pratica partendo da Pierre Bourdieu. Allora, la mia prima tesi sarebbe Tuckaro inventa nel suo testo una pratica di movimento come discorso scientifico a sé. Inventa qua un duplice significato. Da un lato, Tuckaro è la prima persona che fornisce una descrizione dettagliata dei diversi salti, da lui chiamata cubistica o salti cubistici, cioè salti con una rotazione del corpo attorno all'asse trasversale. Senza i trois dialogues, il suo testo, oggi non avremo il sapere che nel Cinquecento abbia esistito una tale varietà di salti. D'altro lato, lui inventa la cubistica come discorso scientifico, scientifico ovviamente nel senso che la parola assumeva nell'epoca. La condizione della possibilità di un tale discorso è la esplicita separazione dalla tradizione di questi salti, che per definizione cominciano con un inchinarsi della testa verso la terra, il quale si vede appena il saltatore in alto, adesso ha la testa verso la terra, e ogni salto comincia con l'inchinarsi verso la terra. Questa tradizione, cioè avere la testa in giù e i piedi in su, non per ultimo a causa di vari divieti da parte della Chiesa, ebbe una connotazione nettamente negativa. In questo contesto, io vedo anche lo scopo principale del testo. Tuccaro non aveva, come spesso sostenuto, l'intenzione di scrivere una didattica del salto, ma l'invenzione di un discorso riconosciuto. La sua strategia è la seguente. Nei dialoghi intreccia il salto con i discorsi centrali delle scienze e dell'arte del Cinquecento. Troviamo paragoni e avvicinamenti a ognuna delle sette arti liberali e il linguaggio della geometria nella quale tratta ogni movimento del corpo. il che si vede molto bene, per esempio, in questa immagine. Queste sono tutte del libro stesso, ce ne sono più di una cinquantina. E su tanti si vede le inquadrature che ricordano la geometria. Dall'architettura, dalla pintura e dalla teoria della proporzione adotta i concetti centrali, cioè quelli di regola, misura e proporzione. Tuccaro si autodefinisce l'architetto dei salti. Lo spazio necessario per stabilire questo discorso si apre soltanto perché nello stesso tempo Tuccaro si distacca da altre pratiche e cerca agganci riferendosi alle autorità antiche e le loro dichiarazioni che riguardano il salto. Cioè tutta la tradizione popolare che ovviamente esisteva dei saltatori nelle piazze per lui la denomina anche esplicitamente in modo negativo per cercare un distacco netto da loro. Perché, sempre con la spiegazione, che questi saltatori non abbiano regola, misura e perfezione. A parte questa strategia di mischiarsi o inserirsi nei discorsi già stabiliti e riconosciuti, Tuccaro elabora anche del sapere originale. Per la prima volta i diversi salti cubistici vengono aggruppati secondo criteri definiti. Movimenti assai complessi vengono definiti nel senso che lui li dà un nome per la prima volta ed è scritto in modo molto dettagliato. sicché si può dire che i tuoi dialog creano tutta una terminologia che per la prima volta permette di definire un salto come un salto riuscito, il che fino alla pubblicazione di questo testo non c'era scritto da nessuna parte quando un salto era riuscito, ben fatto o no. Perciò è un lavoro di sistematizzazione, codificazione e teorizzazione del salto che con buona ragione possiamo chiamare un ordine razionale della cubistica. A parte questo, i tuoi dialog sono un testo esemplare per seguire il cambiamento epistemologico nel Rinascimento. Basta accennare alla generale rivalutazione del corpo umano, dell'esperimento e dell'osservazione. Nello stesso tempo la definizione del salto ben eseguito rispecchia l'epistema del Rinascimento nel senso di Foucault e i concetti centrali per il salto ben eseguito sono l'armonia, la perfezione, l'ordine e la forma del cerchio. Due, le forme del dialogo secondo me costituiscono il tratto decisivo per nobilitare il salto e per creare questa teoria del salto. Tuccaro sceglie il genere letterario del dialogo e di nuovo siamo a Baltasar Castiglione e il cortegiano e questo scegliere il genere letterario del dialogo permette, in contrasto al trattato, come per esempio il trattato sulla palla di Scaino che abbiamo visto prima è un trattato classico dove spiega come si fa niente di più e niente di meno e il dialogo permette di presentare opinioni opposte senza dover arrivare a un'unica verità. Il primo e il terzo dialogo sono caratterizzato da un alto grado di dialoghicità o dialoghismo, non so bene se si dice dialoghismo o dialoghicità. Ok. Sono altamente dialogici, diciamolo così. Sono dialoghi aperti, con posizioni contrapposte nei quali i protagonisti usano una quantità di riferimenti intertestuali. Questo modo di operare con citazioni di autorità, spesso antiche, fanno da garante della sapienza dell'interlocutore. Il secondo dialogo, che contiene la descrizione dei salti, invece è collocato in mezzo a una struttura completamente diversa. Sia a livello formale, sia a livello del contenuto, possiamo osservare che Tuccaro prende come modello il cortegiano. Sicché credo si possa dire che nella stessa maniera nella quale Castiglione aveva concepito l'uomo di corte ideale, Tuccaro cerca di concepire il saltatore ideale. Uno tra i tanti esempi possibili è l'uso che Tuccaro fa del termine grazia, il concetto centrale del Castiglione. Per il salto ben eseguito, secondo Tuccaro, e questo lo ripete decine e decine di volte, la bonne grâce, la buona grazia, la bella grazia, è indispensabile, e ovviamente anche qua la bonne grâce è strettamente connessa con il sapere delle regole, della giusta misura e dell'appropriazione perfetta. Questa parte viene trattata nel secondo dialogo, che da un punto di vista formale è molto più monologico, ricorda molto di più un trattato, però qua troviamo un dialogo ad un altro livello, cioè il dialogo tra le xilografie e le parti testuali, ed è proprio da qua che nasce una teoria della pratica. Tuccaro deduce la sua teoria, ovviamente per il nostro concetto di teoria, tra virgolette, del salto, unicamente dalla descrizione molto dettagliata della pratica stessa, cioè dell'atto di eseguire il salto. In questo senso le xilografie sono molto di più di una semplice illustrazione del testo, fissano e così definiscono posizioni del corpo a volte più precisi di qualsiasi testo scritto lo potrebbe fare e con ciò pure loro garantiscono la razionalità, il controllo e il carattere scientifico. Vi faccio vedere giusto un paio di esempi di posizioni del corpo centrali per i salti. Questo è l'arrivo, l'arrivo è la cosa più importante. Secondo Tuccaro, le xilografie significano il momento dell'esibizione di questo specifico salto nell'insieme della festa, cioè il dialogo è inserito in questa festa in Turin, ci sono i sei protagonisti, tre che fanno i salti, tre che non saltano, che sembrano più persone di corte, nobili e molto sapienti e sempre quando nel secondo dialogo viene inserita un'immagine, questo sarebbe il momento nel quale uno dei tre saltatori esibisce il salto. in questo senso il secondo dialogo diventa un'esemplare messa in scena della scienza e come tale paragonabile con il teatro anatomico di Visaglio. Esaminando dialoghi possibili che però non appaiano, è interessante notare che Tuccaro evita la connessione con certi discorsi, per esempio tutta l'arte decorativa della grottesca, le teorie contemporanee del grottesco eppure il motivo letterario del mondo alla rovescia. Questi hanno in comune di accentuare il momento del rovesciare la testa in giù. Costituiscono così chiaramente un principio stilistico che va incontro all'ordine classico, ma è proprio l'ordine stilistico classico nel quale Tuccaro cerca di inserire la sua pratica. Questo secondo me è il motivo principale per il quale ha tralasciato questi discorsi, pur dovendoli conoscere molto probabilmente. Vi faccio due esempi della grottesca, dell'arte grottesca. Questi sono a Torre Chiara, nel cosiddetto salone degli acrobati e si vede che le immagini sempre del 1546, credo, sono molto simili a quelle immagini che poi usa Tuccaro per i suoi acrobati. Però tutto il discorso che gira attorno lui lo fa finta che non esista, diciamolo così. Tre. Le rappresentazioni dei saltatori alla corte francese e l'ambivalenza dei salti. Se mettiamo assieme le scasse informazioni sulla vita di Tuccaro, ci sono alcuni aspetti notevoli. Senza dubbio possiamo constatare un avanzamento sociale da uno che saltava assieme ai giocaglieri nelle piazze italiane e diventato il cosiddetto saltarant du roi, il saltatore del re, documentato attraverso il cosiddetto privilege du roi che è inserito nel testo nella versione del 1599. È però pure da notare che tra il 1588 e la pubblicazione del testo undici anni più tardi che io sappia non abbiamo nessun riferimento esplicito alla sua vita. Dunque, da un punto di vista della storia sociale cinquecentesca, possiamo pensare che Tuccaro non solo aspirava a nobilitare una pratica di movimento, ma con ciò anche il gruppo dei saltatori è molto probabilmente per primo se stesso nella vita di corte. Potrebbe essere che si trattava semplicemente del tentativo di sistemarsi e sistemarsi prima di tutto a livello economico. Questo potrebbe spiegare perché sta descrivendo se stesso come maestro e educatore di corte. Un gruppo sociale che nella seconda metà del Cinquecento alla corte di Parigi si fa sempre più importante eppure come quello che insegna la cubistica al re. Cioè, Tuccaro diceva di si stesso che lui stava insegnando i salti e tutta questa pratica di movimento al re di Francia e che secondo me è più che improbabile quando si vede gli esercizi che questi saltatori dovevano eseguire. Quello che possiamo dire con certezza è che Tuccaro ha dato dei spettacoli nella corte a Vienna prima di partire per Parigi. Tenendo conto dell'influenza enorme che la vita cortese italiana ha avuta a Parigi e dell'aumento degli interscambi tra la cosiddetta cultura d'élite e la cultura popolare è probabile che Tuccaro sia arrivato a Parigi come uno tra i tantissimi artisti che entravano in scena durante le molteplici festività di corte. La cubistica nell'insieme della festa rinascimentale potrebbe così aver assunto un ruolo molto speciale. Secondo le teorie della festa più comuni la scostituente della festa è la sospensione temporale del quotidiano, la trascendenza e il capovolgimento dell'ordine limitato nel tempo della festa ovviamente ed è proprio questo il momento che rappresenta il salto cubistico nel senso spaziale rovesciando l'ordine l'uomo non sta più in piedi ma è completamente capovolto e poi quando il salto è stato eseguito bene ritorna nell'ordine perfetto che sarebbe quello che qui fa da ostacolo ma questo è sempre anche la posizione dell'arrivo il salto visto così rappresenta per il pubblico il motivo del pericolo dello stupore e pure quello della meraviglia o del miracolo tutti aspetti abbastanza importanti nelle sceneggiature della festa alla corte francese di quel tempo infine nel caso ideale il salto ben eseguito ristabilisce l'ordine di prima sicché la pratica della cubistica in un certo senso rafforza nella simbologia della festa il potere del re se funziona infine tornando alla domanda se la pratica descritta nell'epoca era gioco o arte io direi che da un lato sicuramente è stato un gioco prima di tutto per i saltatori stessi un divertirsi a eseguire questi salti complicati come da sempre fino ad oggi ci si può divertire facendo cose del genere e si nota anche del testo che i saltatori tra di loro si danno si danno dei consigli cioè comunque sembra una cosa abbastanza diciamo allegra non in tutto il testo ma in parte la cubistica e questo anche questo è esplicito nei tuoi dialog ha un momento di volo e come sappiamo bene il sogno di volare esiste anche da molto prima del cinquecento in più direi che c'è una parte importante che riguarda il pubblico per il pubblico senza altro la messa in scena di questi salti ha un aspetto giocoso come abbiamo visto però c'è pure da dire che per Tuccaro il gruppo sociale dei saltatori probabilmente è stato tutto questo è stato anche un gioco molto serio si trattava di guadagnarsi la vita senza altro su questo non ci sono dubbi e di esibirsi in modo tale da diventare o rimanere parte integrale della corte se prendiamo la parola Johann Heusinger qui non si tratta sicuramente di gioco perché lui nel Homo Ludens scrisse il termine che più si abbina con il gioco è quello di vincere nel testo del Tuccaro non abbiamo nessun nessun neanche una mezza frase nessun appunto che ci possa far pensare che ci siano state delle gare tra i saltatori cioè l'hanno esibito molto più come un pezzo teatrale ma non come una gara sportiva per questo seguendo Heusinger non è gioco se connettiamo gioco con competitività che secondo me è una buona idea a farlo allora per quanto l'arte io direi piuttosto per l'epoca se parliamo di arte e scienza nel contesto storico sì non c'è dubbio che questi dialoghi Tuccaro con questi dialoghi riesca a definire la sua pratica come un'arte e una scienza nel panorama del Cinquecento grazie 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 con questo bell'intervento che alla fine toglie il punto interrogativo gioco e arte questo chiarimento a cui arriviamo proseguiamo con i nostri lavori e darei la parola ora Alessandro Arcangeli restiamo qualcosa di vicino alla danza vedremo se sarà così grazie bene mi scuso in partenza per la qualità delle immagini che non sono comunque centrale il mio discorso a volte sono piccole o non molto chiare ma comunque servono più che altro per accennare al tipo di documentazione su cui si basa la ricerca sui temi di cui parlerò che poi qui non approfondisco specificamente nel loro dettaglio è un vero piacere però parlare dopo Sandra Schmidt perché le osservazioni che lei ha fatto sulle illustrazioni relative all'arte del salto acrobatico sono molto stimolanti e potrebbero essere messe a confronto con quello che dice l'iconografia del tempo a proposito di danza farò poi quando arrivo al dossier immagini qualche osservazione relativa alla funzione che le immagini esercitano nei manuali di danza del Cinquecento devo dire però in premessa visto che ho anticipato la questione che il ruolo sembrerebbe abbastanza minore che non si va molto al di là del mostrare alcune posizioni iniziali che devono avere i danzatori dopodiché chi volesse apprendere tecniche guardando immagini sarebbe probabilmente abbastanza poco servito infatti uno specialista della il problema è quello che abbiamo già detto più di una volta oggi della rappresentazione statica figurativa di arti di movimento e questo è un oggetto di studio e uno specialista della rappresentazione dell'apparato iconografico dei trattati dei vari arti fisiche come le chiama lui un po' scherzosamente nel titolo del suo libro arti marziali del rinascimento come Sidney Anglo ha suggerito che sia in realtà la scherma la disciplina che inventa per prima delle forme di rappresentazione figurativa efficace delle posizioni della disposizione dello spazio dei movimenti degli schermidori sulla pagina e poi da questa per certi versi la danza ed altre discipline come l'equitazione o d'altro potranno anche trarre ispirazione c'erano molti incroci in queste discipline anche come incroci biografici di maestri che insegnavano l'una e l'altra arte e anche la vicenda della traduzione di queste competenze in una trattatistica scritta e in un apparato iconografico seguì in parte dei percorsi incrociatico con qualche appunto ambito che arriva prima qualcuno dopo il tema poi dell'arte su cui Sandra ha chiuso è fondamentale anche per la danza c'è una tradizione di studi recente che ha ripreso una espressione cinque-seicentesca e cioè il ridurre una in arte dove il ridurre sembra far pensare a un ridimensionamento ma in realtà va inteso come un tradurre un tramite anzi piuttosto un elevare un codificare quelle che erano delle competenze trasmesse prevalentemente oralmente o per apprendimento diretto guardando come si muove un maestro che cominciano a volersi e fissare in termini più organizzati e anche giocare al gioco rinascimentale della mia arte è nobile più o quanto della tua e quindi io ho dignità che mi va riconosciuta anche professionalmente questo è un gioco a cui partecipano in tanti è un po' affollata questa scena fra 5 e 600 e quindi sono molti i campi in cui vediamo anche uscire dei testi di questo genere e per chi studia la danza i dialoghi di Tuccaro sono fondamentali perché se non altro fra le altre ragioni anche perché c'è una convergenza sovrapposizione una ambiguità lessicale in molte lingue a partire dal latino francese all'italiano saltare vuol dire anche danzare è uno dei significati del termine per cui nel primo dialogo Tuccaro discute anche abbastanza ampiamente della natura dei pro e contro della danza come disciplina nel contesto delle varie arti di cui propone una regolamentazione una messa in scrittura che se parli di danza all'interno del convegno di oggi non si dovrebbe dare per scontato la collocazione della danza come esempio o sotto insieme della ludicità richiede implicitamente una valutazione di chi la pratica la osserva o la studia implicitamente una valutazione sulla natura di questa attività dei significati e delle funzioni che le vengono attribuiti da chi la pratica la osserva o la studia che dire allora del ruolo di molte danze all'interno di rituali religiosi o politici o del rapporto fra l'apprendimento del ballo e quello del portamento corretto e delle more maniere o della sua pratica entro un programma di fitness ecco la prima immagine è quella del sonare e ballare come sono presenti in alcune manoscritti quattrocenteschi del Tacuinum Sanitatis un testo della tradizione araba medievale che rappresentava soprattutto una serie di cibi e bevande ma anche una serie delle forme di stile di vita per l'influenza che possono avere per preservare in salute e quindi qui abbiamo proprio la danza mostrata come esercizio fisico raccomandata o ancora della dimensione teatrale di uno spettacolo di balletto certo un divertimento ma nella forma piuttosto specifica dell'assistere quale spettatore ha una rappresentazione quale che ne sia il genere con il pandan che se c'è chi vi assiste nel proprio tempo libero ammesso e non concesso che una tale ripartizione funzionale del tempo valga per la società in esame qualcun altro starà eseguendo questi passi e realizzando queste figure in un ruolo in qualche modo specializzato e professionale dunque non esattamente per gioco le funzioni possono essere diverse a volte se ne cavalla più di una anche per le medesime attività in altri casi si tratta di precisare a quale pratica specifica si stia effettivamente facendo riferimento a ben vedere queste domande richiederebbero un passo indietro e una messa in discussione di qualcosa che è ben lontano dall'essere ovvio e cioè che cosa intendiamo quando parliamo di ballo o danza è piuttosto evidente che in diverse lingue epoche e culture si fanno rientrare sotto questa rubrica alcune pratiche e se ne escludono altre e che tutte queste denominazioni e classificazioni presentano concordanze e sovrapposizioni reciproche soltanto parziali se da queste considerazioni potrebbe derivare un ambito di studio piuttosto di nicchia che ritaglia con molta cautela quello che per un luogo tempo e contesto determinati che sono oggetto di studio abbiamo sufficienti garanzie per poter considerare e discutere come esperienza di danza e lo osserva nella sua specificità culturale d'altro canto sviluppi recenti nelle scienze umane hanno a loro modo restituito una maglia più larga e consentito di attribuire alle plassi coreotiche di varie civiltà un senso e una pregnanza che va oltre i confini degli specialismi mi riferisco alla cosiddetta svolta performativa a seguito della quale la teoria sociale è venuta a valorizzare la forma dell'agire dei soggetti storici anche nella materialità del suo svolgimento riscoprendo il mondo come teatro e le identità come ruoli sociali che si rivestono più o meno alla maniera in cui si indossano abiti ma allora anche quello che personaggi storici facevano sulla scena o in una sala da ballo 4, 5 o 6 centesca può dirci ben di più del modo in cui trascorrevano il tempo libero o cercavano di divertirsi e indicare invece dinamiche delle relazioni interpersonali e dei rapporti di potere che danzando si potevano come minimo mettere in mostra quando addirittura quella non era almeno in parte la sede in cui si costruivano basti questo per ora come premessa teorica o piccola provocazione introduttiva al tema che mi è stato affidato nel settembre 1932 Kurt Sachs firmava da Berlino la prefazione alla sua storia della danza che una tipografia di Tubinga avrebbe stampato l'anno successivo per il suo editore berlinese siamo soli ad associare la data del 1933 a ben altre e più tragiche vicende ma la scesa al potere del nazismo investì direttamente anche la vita e carriera di questo studioso che già cinquantenne perse il suo posto di curatore aggiunto del museo degli strumenti musicali della capitale tedesca Sachs venne allora invitato a collaborare alla classificazione degli strumenti musicali presenti nella collezione di quello che oggi è il museo dell'homme di Parigi si fermò nella capitale francese per quattro anni prima di proseguire nel suo itinerario di emigrato oltreatlantico come tanti intellettuali miteleuropei di quegli anni ecco l'expertise negli strumenti musicali è in realtà una delle principali caratterizzanti di questo etnomusicologo tanto che nella prefazione si sente in dovere di scusarsi con il lettore per avere con la danza invaso un campo non di sua stretta competenza ciò non impedì al suo volume di rimanere senza rivali a livello internazionale il testo generale di riferimento sull'argomento per almeno un cinquantennio l'opera è condizionata ad una serie di posizioni ideologiche e scelte metodologiche dell'autore che la rendono oggi pressoché inservibile era senz'altro innovativa in una prima parte che cercava di stabilire una tipologia delle forme di danza di tutte le epoche e le culture ma la sezione principale era quella storica e nonostante il titolo l'annunciasse come una storia mondiale Weltgeschichte o nella traduzione americana che seguì quattro anni dopo World History metà del volume tratta dell'Europa a partire dall'antichità ho introdotto questa figura perché al di là dei limiti del testo di cui ho già accennato risulta ancora attuale e viene utilizzata dagli specialisti l'intestazione che Sachs diede al capitolo che ci riguarda le cronologie più utili dei fenomeni storici seguono scansioni che dipendono dai fattori che registrano continuità e da quelli in cui invece dei riconoscibili mutamenti ci suggeriscono di marcare che un'epoca per lo meno dal punto di vista indagato si chiude e se ne apre un'altra Sachs è saggiamente flessibile nell'adottare dei criteri e per l'Europa del Quattrocento dedica una sezione a quel secolo questo è un esempio di uno dei primi trattati di danza del Quattrocento italiano quello del maestro Guglielmo ebreo da Pesaro che si conserva in diverse varianti questa è un'immagine che si trova nel manoscritto parigino e che combina la musica e la danza mostra una posizione non delle più consuete con tre danzatori in seghe due e fu uno dei primi trattati che consegnarono alla tradizione siamo nel terzo quarto del Quattrocento alla tradizione delle corti italiane europee del tempo una serie di coreografie che avranno una notevole fortuna e circolazione oltre che delle osservazioni di carattere anche teorico sulla natura della danza a quella che però fa seguire un 1500 1650 l'età della Gagliarda ecco in questo caso il respiro che la tradizione prende è quello di un secolo e mezzo la scelta come si vedrà è coerente con la natura e l'adattazione delle fonti che ci testimoniano le pratiche dell'epoca dunque in questo caso quello che viene identificato come caratterizzante è un genere di ballo sociale specifico la Gagliarda così per il secolo successivo da metà seicento a metà settecento Zax parlerà di età del minuetto la compianta Barbara Sparti studiosa e coreografa di danze antiche preferiva dichiaratamente l'espressione di Zax anche specificamente per il fatto che trovava che categorie come rinascimento e barocco prese in prestito da altri campi del sapere non avessero un riscontro chiaro né aiutassero veramente a comprendere la prassi coreutica dell'epoca che cosa caratterizza dunque l'età della Gagliarda dobbiamo in primo luogo situarci in un contesto storico individuare dei soggetti delle pratiche dei testi e documenti che ce le testimoniano lo spazio è essenzialmente quello della festa i repertori quelli da un lato di danze tradizionali di villaggi e delle campagne dall'altro di coreografie specifiche composte da maestri di ballo ma il tutto ancora in forte interazione e sovrapposizione con una circolazione di morfemi stilistici di singole composizioni fra gruppi culturali diversi attraversando confini geografici e sociali la festa è anche luogo in cui si praticano divertimenti a base di danza che ci ricordano qualche aspetto dei giochi di cui ci parlava questa mattina Gerardo Ortalli così in area veneta è particolarmente attestato il ballo del cappello in cui l'offerta del copricapo serve a una donna a invitare successivamente diversi partner a ballare con lei su questo sfondo si muovono una pluralità di personaggi compreso un numero elevato di maestri di ballo di alcuni abbiamo notizie più precise di altri solo il nome di un'infinità ancora si saranno perse le tracce diffusi sul territorio che potevano combinare o alternare questa professione ad altre attività e anche in questo documentano lo stretto intreccio fra questa pratica sociale e le forme di vita quotidiane Spati ha elencato un corpus di una ventina di trattati di danza e altre fonti coreografiche scritte che lei stessa ha attivamente contribuito a riscoprire e mettere a disposizione della comunità degli studiosi di danze storiche che coprono il periodo che va dal 1550 a 1630 si tratta dunque di un'età caratterizzata da una certa coerenza interna che si manifesta in una continuità di lessico coreutico e di pratiche di scrittura se ne parla come di un rinconoscibile stile italiano che aveva all'epoca una visibilità europea e avrebbe in qualche modo passato il testimone nel 600 alla fondazione francese del balletto classico per generi come la Gagliarda la serie cronologica delle fonti coreografiche comincia almeno mezzo secolo dopo le prime testimonianze scritte della diffusione di quel tipo di performance che sono testate già per fine 400 si tratta dunque di pratiche che approdano la fase della scrittura quando sono già consolidate nell'uso da un paio di generazioni ecco, direi uno sgardo a qualcuna delle diapositive per proporre la natura ecco, dei testi di cui riprenderò rapidamente a parlare questo è uno dei primi trattati a stampa dell'età della Gagliarda il testo di Lucio Compasso del 1560 in realtà una somma di coreografie non più di questo proprio come nello stile che daremo tra breve una messa in scrittura di una serie di varianti di questa danza la Gagliarda è presente anche in questa fonte francese il libro pubblicato nel 1588 a Langres nella Lorena da un canonico della cattedrale di quella città quindi curiosamente un religioso l'Oscelesografie un libro che insegna l'arte della danza e nella forma anche questo di dialogo tra maestro e allievo in cui l'allievo è uno studente di legge quindi l'idea è che ci si formi nella danza come nelle buone maniere questo può giustificare anche evitare a comprendere come mai possa istruire la danza sia pure sotto pseudonimo con un anagramma del suo nome vero questo uomo di chiesa questo è il frontespizio di una delle edizioni del libro e ha una particolarità anche di presentare la musica affiancata in modo piuttosto chiaro per cui ad ogni nota corrisponde un passo e questo è un caso abbastanza raro per il momento in cui c'è un'istruzione che le combina assieme in modo inequivoco la reverenza quella in basso è come l'inchino iniziale gli strumenti musicali non mancano di includere il tamburo e qui c'è anche della musica militare con tanto anche di ritmi da battere e anche la rappresentazione grafica dell'armeggiare connesso anche a questa pratica all'epoca si cominciano a pubblicare anche libri specifichi di musica per ballo come questo dell'italiano Giorgio Mainerio e poi la serie dei trattati più consistenti corposi di fine Cinquecento è rappresentata soprattutto da due maestri di cui diremo fra breve Fabrizio Caroso questo è il suo ritratto ad opera dell'incisore veneziano Giacomo Franco che oltretutto ecco questo nel suo libro sugli abiti di uomini donne veneziane nell'immagine a destra Franco rappresenta anche la novizia o sposa col ballarino quindi c'è questa figura del ballarino è presente anche in contesti fuori dalla letteratura specifica che le riguarda mentre l'immagine precedente appunto era da la nobiltà di Dame la seconda versione del trattato di Caroso che fra gli anni Ottanta e il 1600 cambia di titolo e viene un po' rimaneggiato e ci presenta una delle varie pose a cui facevo il fregamento all'inizio ci sono poche immagini che si ripetono nel corso del test uno trova la stessa immagine a più pagine perché in realtà non serve molto più come dicevo che mostrare una posizione iniziale la posa più frequente è quella del cavaliere che con la mano destra tiene la mano sinistra della dama ma ci sono anche inversioni o situazioni in cui si fronteggiano l'un l'altro quindi una serie di varianti che hanno a che fare anche con la posizione iniziale di diversi balli e coreografie specifiche questa più curiosa è una composizione specifica di Caroso che si intitola Contrapasso Nuovo fatto con vera matematica e rappresenta geometricamente il percorso seguito dal cavaliere e dalla dama sullo spazio della sala anche se vedete in alto a destra l'indicazione metrica di un dattilo e uno spondeo a suggerire quale doveva essere appunto il ritmo che sottostava questa danza che era anche molto molto frequente quindi tan 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 come una base metrica un po' per tutte le variazioni musicali del caso il successore l'altro grande figura principale che pubblica un trattato nel 1602 1604 questa volta a Milano è Cesare Negri detto il trombone ne diremo anche per il percorso un po' diverso della sua carriera questo è il frontespizio appunto della prima versione del suo trattato anche qui abbiamo riprodotte le musiche e queste sono copie di dammi e cavalieri e una figura di danzatore in una postura che viene indicata che viene usata a scopo didattico all'interno del test continuità non significa assenza di svolgimenti e al passaggio dal 5 a 600 alcune differenze emergono come ha fatto notare fra gli altri Alessandro Pontremoli la funzione dichiarata dai testi che ci sono pervenuti conosce uno slittamento dichiarato mentre i trattati pubblicati negli anni 80 e del 500 da un maestro dell'Italia centrale Fabrizio Caroso erano ancora intesi esclusivamente come Ed Memoir che prevedevano comunque l'iniziazione alla danza per il tramite dell'insegnamento diretto di un maestro dunque della fisicità del suo corpo della oralità delle sue istruzioni già il milanese Cesare Negri detto il trombone un professionista di competenze coreotico-musicali che sa mettere al servizio di una clientela sufficientemente ampia da impegnarlo per un certo periodo anche in Francia non esita ad annunciare dal frontespizio dei suoi che i suoi libri permettono al lettore un apprendimento fai-da-te che non richiede l'ausilio del tutor la differenza non è da poco per quel che rivela non solo o tanto di pratica di scrittura ma anche soprattutto di consuetudini sociali fra pedagogia e stili di vita Pontrema ricomenta anche altrimenti la funzione di quei testi ibridi prima della svolta del fine 500 e cioè insiste sul fatto che una loro significativa razio sembra consistere nel documentare eventi a cui l'autore e comunemente il destinatario hanno partecipato questo tratto li consegna la sfera della festa e ne rappresenta un'intenzione di lasciarne precisa traccia documentaria per tutti gli usi cui un manufatto del genere può efficacemente prestarsi per la Gagliarda e per altri generi di danza diffusi all'epoca questi documenti al di là dei testi ambiziosi più rari che includono parti teoriche contengono essenzialmente una serie di mutanze e passeggi variazioni coreografiche di sequenze fisse di passi che trovano un contemporaneo parallelo musicale nella consuetudine del tempo a pubblicare variazioni strumentali su un basso ostinato come nel caso della Folia di Spagna risale 40 anni fa la prima edizione di un saggio suggestivo in cui Rudolf Zurlippe un intellettuale di formazione francofortese prendeva proprio l'evoluzione della danza italiana fra 400 e 500 come caso esemplare per interpretare un passaggio epocale nella concezione pratica del corpo all'inizio dell'età moderna Lippe che si occupa anche di molto altro ma ha trovato modo di riprendere il nocciolo di queste analisi all'interno di un suo recente libro di filosofia della danza mostrando così che gli stavano ancora a cuore sostiene in sostanza che quella protorilascinamentale era una pratica essenzialmente ludica eccoci ritornare un po' alle questioni e precisazioni che si proponevano all'inizio teatro di sperimentazioni cinetiche e relazionali sarebbe succeduta invece una fase di geometrializzazione dello spazio irrigidimento corporeo professionalizzazione e gerarchizzazione sociale che avrebbe costituito una fondamentale base antropologica per l'anziano regime non ci si lascia sfuggire la significativa compatibilità tanto ermeneutica quanto cronologica di questo schema con l'idea di Michael Bakhtin di una svolta nella logica del riso del gioco e della festa così pure con l'ipotesi di Peter Burke di un trionfo della quaresima sul carnevale con la separazione delle pratiche ludiche dell'élite da quelle popolari studi successivi anche ispirati alla categoria del disciplinamento proposto da Michel Foucault hanno ripreso negli ultimi 15 anni questa chiave di lettura mostrando come si possa fare una storia della danza che pur non trascurando dettagli tecnici e performativi riesce a dire qualcosa di profondo sulla storia delle società di un passato più o meno recente nel loro insieme secondo una diffusa leggenda metropolitana in un palazzo del Kent Pencer's Place che diede Natale al poeta Elisabethano Philip Sidney si conserva un quadro anonimo che rappresenterebbe la regina Elisabetta I che balla con Robert Dudley primo conte di Leicester una scena a cui si è fra gli altri ispirato anche il film britannico Elisabeth del 1998 l'immagine viene proposta regolarmente a testimonianza di quanto perfino una regina potesse all'epoca impegnarsi direttamente in una forma di danza alquanto mossa e un tantino osè qual era la volta in realtà l'identificazione dei due personaggi è del tutto fasulla il dipinto appartiene a una serie in cui si conservano almeno altre tre varianti sul continente che proviene dall'ambiente culturale della colte francese dei Valois del secondo cinquecento e a suo modo si può ritenere ne rappresenti la prassi coreutica al modo cioè in cui lo può fare un manufatto con queste caratteristiche che può valere come fonte iconografica per restituirsi pratiche sociali determinate solo a patto che lo si interpreti con cautela e consapevolezza come minimo facendo la tara di tutto quello che possiamo immaginarsi l'artista il suo committente e il suo pubblico vi abbiano potuto vedere delle intenzioni che abbiano presumibilmente portato a produrlo degli effetti che ci sarà atteso che la sua produzione e le modalità di esposizione più o meno pubblica avrebbero portato con sé è noto anche la produzione artistica è una pratica sociale che risponde a tutta una serie di regole e condizionamenti e l'ultima cosa che dovremmo sognarci di fare è attribuirle una qualche missione di riproduzione fotografica della realtà proprio un evento che ha luogo nel contesto della corte francese e che ha per protagonisti personaggi che potrebbero essere fra quelli effettivamente ritratti in questi quadri sto per finire occupa un posto di primo piano nelle ricostruzioni standard della storia della danza in occidente segnando simbolicamente con la sua data il 1581 lo stesso anno della pubblicazione del ballerino di Caroso un paletto di riferimento per l'inaugurazione di una tradizione teatrale si tratta del ballet comique della Rhin una rappresentazione allestita nell'occasione delle nozze della sorella della regina con il duca di Joyeux uno dei favoriti del re Enrico III nella sala principale che avrebbe poi assolto la funzione di spazio teatrale anche per Molière di una residenza parigina dei Borbone che occupava lo spazio oggi preso dal colonnato e dalla facciata est del museo del Louvre l'evento presenta tutta una serie di caratteristiche che gli hanno assicurato una sicura fortuna critica così è per la suonatura di spettacolo integrato di recitazione musica canto e danza senza dimenticare il ruolo svolto da personale italiano legato alla regina madre Caterina De Medici a documentazione degli scambi culturali tramite i quali la cultura festiva del rinascimento italiano contribuiva a diffondere un lessico comune nello spazio europeo in realtà non era né il primo caso né un fatto isolato lo si può prendere piuttosto come esempio significativo di un trend indicativo di consuetudine e di un'estetica diffuse testimonianza anche delle forme della ritualità del potere a proposito della molteplicità delle funzioni sociali della danza da cui eravamo partiti insomma un secolo ricco e intrigante il Cinquecento per la stratificazione di significati e interpretazioni possibili nello stile di una torta a millefoglie che offre a chi lo osserva grazie grazie anche a Alessandro Arcangeli per questa bella illustrazione ampia curata accompagnata da immagini molto interessanti ora il terzo intervento di questo pomeriggio di John McClelland con cui arriviamo allo sport allo sport e alla scienza ok ed ecco tanto science in school ok grazie da quasi 80 anni perdure senza soluzione definitiva il dibattito sui limite e la definizione di gioco e sugli elementi che quando sono presenti trasformano il giocare in qualcos'altro cioè in un'attività più seria più organizzata fino allo sport a questa discussione complicata dalle differenze lessicali e morfologiche tra le principali lingue nelle quali si svolge vorrei contribuire a titoli di preambolo alla mia relazione con un aneddoto che forse schiarirà l'oscurità circondando l'oscurità circondando il soggetto che oggi ci riunisce qui sotto l'egida generosa della fondazione Benetton e del festival internazionale dei giochi di strada i quali vorrei soprattutto ringraziare come vorrei ringraziare Gerardo Ortale Patrizia Boschiero Nicoletta Fermi e la loro squadra di collaboratori che hanno realizzato questa giornata un po' più di venti anni fa un amico antropologo in visita da noi chiese a mia figlia maggiore a quella epoca di sei sette anni che gli spiegasse la differenza che trovava esserci fra giocare in inglese playing e un gioco in inglese a game mia figlia rispose che quando l'atto di giocare playing acquistava un nome e citava così un gioco a game la sua riflessione non andò oltre ma noi potremmo provare a trarne una conclusione la presenza del nome cioè l'intervento del linguaggio in una situazione essenzialmente non verbale modificava agli occhi di mia figlia formalizzava di maniera irriversibile un'attività fino ad allora informale la cambiava in uno schema strutturato la rendeva quasi permanente il nome del gioco contiene intransecamente dentro di sé la nozione fondamentale di certa maniera di giocare il che esclude altre maniere come anche la spontaneità l'etichetta gioco garantisce dunque la riproducibilità del giocare da quel punto in poi basta che uno dica giochiamo a X perché gli altri sappiano come fare sappiano che devono conformarsi a certe convenzioni riconosciuti dagli altri il nome gioco togliere al giocare almeno in parte il carattere creativo che possediva prima trasforma lo svolgimento del giocare da imprevedibile a quasi prevedibile cioè regolato e in un certo senso le regole fanno del gioco un'attività che mira più al piacere di pervenire a un risultato e meno al piacere puro e semplice di giocare quel fenomeno purtroppo non tocca solo ai giochi infantili la stessa cosa si verificò nel 1555 con la pubblicazione di un libro che Paolo ha parlato del quale Paolo ha parlato questa mattina il trattato del gioco della palla di Antonio Scaino adesso in inglese di manipulare di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività e quindi come a game both repeatable e teachable Presumably quando che disperate set ha somehow proved particolare successivo at satisfying the recreational needs of the players e è deemed to have reached a state of at least temporary perfection also presumably when that set now a game is sufficiently differentiated from other forms of playing and other games to be recognizable as distinct Secondly I want to recall the attitudes towards play and competitive athletics that we can discern in the Middle Ages and into the Renaissance possibly from the beginning of the Christian era when in order to attract converts to Christianity among the lower orders of society a positive value was placed on labor Western civilization has functioned on the basis of a dichotomy between work and play In simplistic terms whatever was not the former work was necessary the latter play religious observances aside It came to be understood especially in the later Middle Ages when medical science began to develop that though work was the necessary condition of humanity to which original sin had condemned us play that is recreation in its literal sense of re-creation was a physical and psychological necessity an antidote and a restorative to working It is not clear however that to the medieval knights whose forms of play tournaments and jousting are the most amply recorded examples of non-work that we possess from the centuries prior to the renaissance it is not clear that these medieval knights would have even understood that dichotomy these often brutal men those who combat in George Duby's tripartite classification of medieval society competed vigorously and enthusiastically in warlike sports their motivations have often thought to be mercenary they could keep the weapons and horses they took from their defeated opponents and even hold those opponents for ransom though these motives at least in courtly circles came to be thought of as less than noble for example in the 12th century Arthurian romance Erec Guéinide by Chrétien de Troyes the hero Erec disdains any material award for his championship tourneying asserting that his only goal is to display his prowess a goal whose achievements would depend on the knight's creativity not on his conforming to any rules but since war and fighting were the only real occupations of the knightly class we cannot say at least in a way that makes sense in the 21st century that our participation was an antidote to work that it was relaxing or playful the same was not true of the physical displays and competitions of the lower social orders ceux qui travaill at a time when industrial workers put in 14 hour days and peasants and farmers labored from dawn to sunset Sundays and saints days were their only release and were given over to all manner of often boisterous behaviors that we can rightly call playing in the sense that it was materially unproductive and displayed none of the characteristics of work the life of the working classes thus swung back and forth between the two poles of the dichotomy long periods of tightly controlled and rigidly determined activity punctuated by short periods longer during carnival time of unregulated relaxation of course what we know of the forms of play that the workers and peasants performed comes to us mostly in a negative image the various decrees and laws issued by governments and the church tending to ban or otherwise limit the exercise of these forms of play and Alessandro Rizzi's Statuto de Ludo is a of course a recent example of the listing of these various decrees we possess almost no information with respect to how this play unfolded but the important point is that it was largely spontaneous and creative in the sense it was untrammeled by rules and conventions and although the regulating decrees mention varieties of plays pila manualis pila pedales pila combacula etc there is no suggestion that these labels are actual names of games governed by recognized rules they seem rather to be simply lists aiming to be all inclusive so that no form of peasant diversion might elude the ban the play of the working classes was condemned either because it caused physical damage to the surroundings and incited violent quarrels or because it was a waste of time and energy that would be better spent acquiring skills that were militarily useful the fact the fact that these decrees had to be issued repeatedly suggests that they were ineffective but we can also say that for much of the period during which jousting and tournaments were practiced by the upper classes the nightly participants were similarly recalcitrant to any form of regulation they paid no attention to the papal decree of 1130 that banned nightly sports because they were too violent and between 1267 and 1292 the English kings Henry III and Edward I issued various versions of the Statuta Armorum that attempted to restrain the unruly comportment of the squires and attendants that formed the night's entourage and who detracted from the nobility of the events a further attempt to regulate turning and jousting as found in Charny's Demande pour la jute of about 1350 these questions which largely concerned legal niceties rather than the rules of the game also indicate that the jousters were unwilling to acknowledge any limits to their actions that is to observe conventions or principles that would prevent any form of ad hoc creative behavior despite the oath they swore at the time of their induction too many knights took their status to mean they could behave in any way they wanted although by the mid-15th century tournament participants appeared to have accepted arithmetical scoring as a means of determining winners and losers replacing the purely intuitive qualitative methods previously in use they still refused to obey other forms of rational regulation in 1465 the Duke of Milan Francesco Sforza arranged a tournament as part of the celebrations attendant on his daughter's wedding one of his bureaucrats drew up a set of rules to govern the event stipulating not only a scoring system but also certain conditions that the participating knights had to observe these rules were intended to ensure a level playing field requiring for example that the equipment the saddles the lances the auxiliary support conform to certain standards applied to all in order to avoid any of the participants having an unfair advantage conferred by some element other than skill some of these regulations are crossed out with the explanation that the knights would not obey them but act according to their whims in other words the knights wanted to play in the full sense of the term they did not want their actions constrained by any a priori rules and although turning and jousting might be done with a variety of weapons and under a variety of conditions none of these varieties actually generated a name and thereby a set of differentiating rules that would ban individual creativity Antonio Scaino's Tratata del Gioco de la Pala came to be written precisely because a member of the noble classes his patron the Duke of Ferrara wanted to play tennis creatively while Scaino a young ecclesiastic of an Aristotelian mindset who was the Duke's client or protege and who was acting as referee thought he ought to conform to the rules although Scaino puts it most delicately and indirectly it is clear from the following text that he found fault with his Ducal master's expectation and this is what he writes in the very first page of the book the book is his own book illustrissimo eccellentissimo principe del gioco della palla la quale ebbe origine da un puntiglio avvenuto giocando a vostra eccellenza e gita poi crescendo in modo dalla cultura che io le ho potuto fare intorno in tempo di vacanze or sopra di questo gioco eccellentissimo principe io intendo esporire a vostra eccellenza una speculazione per me composta e citato da quel dubioso caso che a lei stessa giocando avvenne a fine di rendere più cara in scrittura che non potei fare in voce mentre ella giocava la ragione onde io fu mosso a non giudicare altrimenti di quel che o feici fu il caso in vero singolare e di molte belle difficoltà pieno Skaino returns to this subject in chapters 13 to 16 of the first part of his book generating a detailed analysis of the reasoning behind his edition but explicitly substituting the name of professional players for that of the Duke It is at this point that I want to borrow some concepts and terminology from the history of science In a now old but still influential book The Structure of Scientific Revolutions Thomas Kuhn postulates that significant scientific change the kind that introduces a new paradigm a new model for thinking about the object of research even new objects of research is brought about by the observation of a malfunction an incompatibility between the authorized way of viewing phenomena and the presence in those phenomena of elements that do not fit that view The result of this conflicting observation is a crisis that demands some sort of resolution in which one or the other side will win and the other lose In pure science and this was certainly true of Renaissance science the authorized paradigm was furnished by the ancient Greeks so the stakes were not high but in other areas as Galileo was to discover to his misfortune authority lay with a person or an organism whose foundation might be challenged by a paradigmatic change Schaino's situation was clearly one of crisis but was not commensurate with Galileo Alfonso d'Este would not imprison or execute him for a negative tennis call but Schaino did depend on the Duke for employment and preferment and hence he had to sustain that call with a body of authority the Duke's intuitive sense of what was the right call had to be refuted by objective rational evidence the problem as Schaino found was that that evidence did not exist non mi è stato concesso benché io abbia usata molta dilgenza di trovare libro antico o moderno che aiutomi porga facendo egli alcune menzioni del gioco della pala nel modo che io intendo di scriverne Schaino had thus no choice but to create that book himself to operare tutte le forze dell'ingegno suo per scoprire le ordini e le regole di questo amirabile artificio tanto tempo stato nascosto in order to produce a 345 page volume which he modestly calls an operetta in three parts that would definitively settle the question the first point to be made about Schaino's book was his decision to call it a trattato other than for books dealing with religion it was still in 1555 rarely used as the initial word in a book title in Italy and so drew attention to itself before Schaino it appears on books dealing with musica practica arithmetic medicine grammar etc with scientific would be scientific and technical matters its use seem to flourish in the mid 1550s Pietro Ostenio's Trattato di Malfrancese Nicolo Tartaglio's General Trattato dei Numere delle Misure and Cesare Fiaschi's Trattato del Modo Brigliare Cavalli were all published in Venice in 1556 but closer to Schaino's subject were two books on fencing Francesco Altoni's Trattato dell'Arme intitolato Monochmarchia also called Trattato dell'Arte di Scherma this was written about 1537 but was never published until 2007 and Camillo Agrippa's Trattato di Scienza d'Arme and here we have a couple of illustrations of Camillo Agrippa's who was an engineer of his analysis of how you should practice swordplay the Trattato in the title of these books makes us realize that these they were intended to establish swordplay as a practice rigorously determined by geometry and physics in calling his book a Trattato Schaino is stating that it is scientific in character and that ballgames can be conceived of in the same way as fencing or any other technical pursuit secondly the book's title refers simply to the Gioco della Palla the Italian equivalent of the Latin catch-all term ludus pili the ballgame historically the referential object of this term has been very contextually bound for writers of the Latin gold and silver ages such as Horus Petronius Calpurnius Siculus it most likely designated trigon a kind of three-cornered catch a few centuries later for Sidonius Apollinaris and Gregory of Tours it signified as it had for Galen a multiplayer game the Greeks called harpaston when we encounter Ludum Pili Celebrem the famous game of ball in William Fitz Stephen's 12th century panegyric of London it is obvious that the author has a specific game in mind the English would like to think it is football but contemporary manuscript illuminations show other ballgames Paolo showed us one today that may also be what Fitz Stephen is referring to what Schaino's book does reveal is that for 16th century Italy the undifferentiated term gioco della Palla was a collective noun that according to the pertaining situation could denote a variety of games some similar to each other some not of course the simple act of calling the book a tratato does not make that book scientific and on first reading the gioco della Palla one is tempted to think it is not before reaching the first chapter in which a ballgame is actually described in technical terms the reader has to plow through a four page dedicatory epistle dated the 18th of August 1555 a six page introduction aile tori then after the table of contents in the index a ten page proemio and a four page first chapter all of which are written in the worst kind of pseudo humanistic rhetoric that praises the Duke to the skies and proclaims the ancient lineage of ball games and their intrinsic superiority over all other sports for our purposes the one notable thing to be extracted from all this prose is the ordering of the list of academic disciplines that Skyno enumerates as having been brought at the present time to perfection that is ridotto a ordine fermo by the imposition of leggi e regole certe specific laws and rules and from this action da questo they acquired the label arts nome di arti acquistando he first mentions medicine then the four mathematical disciplines of the quadrivium to which he adds the art of perspective before coming to the three arti detti sermoncinali of the trivium to which he adds poetica to the practitioners of these disciplines also have been assigned certe regole e propria leggi specific rules and individual laws if all these disciplines have been brought to their highest imaginable state which for Skyno means that the diversity of their opinions and practices has been eliminated and the discipline has been unified the same ought to be possible for the Juoco della Palla we ought to be able to compose an arte on this game a technical treatise that will do for ball games what other arte have done for mathematics and language and that is clearly Skyno's real aim in writing his book we note that contrary to similar lists and other 16th century writers Skyno begins his account of human intellectual progress with the scientific disciplines and ends it with logic reversals of the customary order that reveal his mindset and the manner in which he envisages and is going to present ball games we also note in passing that the index la tabula delle cose più notabili is very rigorously alphabetized this is rare for 16th century books and it suggests the care that Skyno took in giving his book a scientific authoritative appearance and character although Skyno probably did not know the works of his contemporary the French logician Pierre Laramay also known by his Latin form of his name Peter Ramis his approach to the subject is very much aligned with Laramay's method first published in 1543 but recast and republished in 1555 that is the approach to any subject is made by analysis literally taking the subject to pieces and by arranging those pieces into dichotomies we are all familiar with this from reading Descartes Discours La Method this as we shall see is Skyno's method in defining ball games the first technical chapter in the Trattato describes the basic structure of the major varieties of the Gioco della Palla which for Skyno consists of players batting a ball back and forth and marking points when one side or the other fails to make the return and at this point he excludes Calcio from his considerations because though it is a Gioco della Palla points are not marked in the same way this orientation leads him to devote the next 17 chapters to the complicated subject of scoring and chases particularly complicated for Skyno because his dispute with his patron precisely concerned just how a complicated sequence of plays ought to have been scored the way he did it or the way the Duke wanted it to be done he devotes four chapters to resolving this crucial question and illustrates his adoption of a scientific method by imagining an alternative sequence to the one that really occurred thus demonstrating the validity of his decision in the remainder of the first part chapters 19 to 53 Skyno imagines in a logical examines in a logical order the number of questions and hypothetical situations that can arise and enunciates a number of rules the second part of the book consists of 72 chapters devoted to analyzing differentiating among the varieties of ballgames Skyno does this by establishing a set of dichotomies derived out of an observation of the eight distinctive features of the Guinness ballgame and observes that these generate six species ballgames can be played with a solid ball or an inflated ball in the open air or in enclosed space this latter implies the use of a cord dividing the playing space in the middle with an open hand or with a clenched fist and if the latter either holding or not some kind of an instrument these eight features generate six different games whose names derive from one of the game's material features the pala da pugno the pala da Scano pala solida la distesa pala corda etc. In the following chapters Scano proceeds to further analyze and dichotomies these six games on the basis of the types of balls and instruments used and the size and shapes of the ideal playing surfaces before reaching the conclusion in chapter 19 that the net game in an enclosed space la pala corda is superior to all of the others and here we have the illustrations this is the polone ball and these are duplicated because the best copy I had was an English translation of Scano which gives the Italian at the top and the English at the bottom but the diagram is the same here we have the Scano bat the server's bat which is the longer one and then the regular one the ball and an inflatable an inflating device the tennis court in the Louvre in Paris with showing a stringed racket a small tennis court with a palatola that you would play with there a medium tennis court with a square palatola and finally the tennis court in Ferrara so the final part of the book deals exclusively with medicine which explains why Scano put medicine as the first subject in his list of the subjects Scano's semi-feudal noble might do as he wished Scano a humanistically educated university graduate saw them rather as games possessed if not actually of rules at least of a certain internal coherence or logic there was thus an incompatibility or malfunction to resort again to Kern's terminology between the way the Duke wanted to score a certain sequence and the way that the game's logic seemed to Scano to demand leaving aside the Duke's superior social status his beliefs with regard to playing were undoubtedly shared by others and thus constituted again in Kuhn's terminology a paradigm an established way in which to understand and manipulate phenomena for Scano to convince the Duke and the public in general that the paradigm was no longer valid he needed to assemble a very authoritative set of arguments normally for a 16th century humanist these arguments would be provided by the writers of Greco-Roman antiquity but as Scano says there was no body of ancient thought on the subject to which he could turn in the same way the problem confronted 16th century scientists logicians and mathematicians since their empirical observations and reflections all too frequently either contradicted ancient authorities or revealed the inadequacy of their thought an appeal had therefore to be made to rationality and the basis of that rationality lay in differentiating among phenomena and among the components of those phenomena in demonstrating that a particular discipline was actually an art for Scano the varieties of the Giacomo de la Pala had become an art because each of them were played in a different way and you ought to play the game according to the particular rules of each of these technique without knowledge is useless so said the French architect Jean Mignon to the builders of the Milan Cathedral in 1399 based on the new principles of scientific investigation Scano's book provided the Duke and the general public with the knowledge they needed fully to understand ball games unfortunately the new logically inspired rules were inimical to what Johann Husinger would much later baptize the play spirit within a few decades Scano's ball game was no longer played thank you grazie John per questo intervento profondo vi proponiamo prendere un caffè prima di continuare con gli altri interventi va bene grazie